Ma buonasera e bentornati in diretta all'FB, eccoci qua di nuovo a presentarvi Fabrizio, eccoci, questi sono tutti gli applausi. Volevo farvi gli auguri a tutti per questo bellissimo 2022, da parte mia, Fabrizio e tuttora quella sorella che ho dietro, è meglio che non vedete, abbiamo con noi la nostra amica e cliente Francesca, Ciao Franci, grazie della tua disponibilità, ciao Fedi e voilà, l'altra stylist che si sta preparando, addirittura la samba, bene bene. Vedete questa tecnica, guardate che bellissima piega, può salutarvi per un bellissimo 2022-2023 che entrerà. Fabrizio, 2023, lascia stare il 2022, oramai siamo agli sgoccioli, è andato, basta, basta, basta. Io non ti voglio vedere fino al prossimo anno, eh. Io speriamo che sia speciale per te, per tutti, anzi per tutti quanti, di grande salute prima di tutto e poi fatevi un bel gioco. Per questo tempo mi allontano, mi avvicino affinché possiate vedere che questa bellissima ha messo in piega. Guardate quanto sono belli i capelli, per cui con un bellissimo saluto da Fabrizio e tuttora, per tutti i raggi che hai degnato la tua presenza. Quindi possiamo dire che questa è l'ultima diretta del 2022. Un grazie a tutti, no, io sono in modalità festa. Buon anno a tutti. Ciao, facciamo una carrellata a tutti. Buon anno. Ecco la Fedi, l'Elen, la Franci, Fabrizio e anche io in fondo. Ciao. Ciao.